Cristina Ripoli è la nuova portavoce della sezione provinciale di Siracusa del forum del terzo settore. L'elezione è avvenuta durante l'assemblea provinciale del forum alla presenza del portavoce regionale Pippo di Natale nel salone dell'Urban Center. Cristina Ripoli ha 38 anni e siracusana ed è coordinatrice dei servizi educativi di Zuima Marci Ragazzi ed è stata eletta all'unaminità e subentra nella carica all'uscente Nando Peretti, presidente dell'Anfas. A sua volta nominato lo scorso anno dopo la prematura scomparsa nel gennaio 2019 della portavoce Grazia Girmena, presidente Anolf Siracusa e comminta sostenitrice del forum e dei valori che esso incarna. Il forum del terzo settore si rilancia per fare cosa? Il forum del terzo settore di Siracusa si rilancia per far comprendere alla città, alle istituzioni, cos'è veramente il mondo del terzo settore che non è solo mondo del volontariato, dell'associazionismo ma anche impresa sociale, anche ambiente e sostenibilità coprogrammazione e coprogettazione insieme tutti gli enti del terzo settore una bella squadra nuova di Siracusa che vede in campo dei professionisti del terzo settore mi piacerebbe citarli Emma Schemberi, Enzo Buda, Francesco Di Priolo, Anthony Di Prisco, Sebbino Scaglione Daniele Arrespini e Letizia Lampo fanno parte di questa squadra che sicuramente non perderanno tempo per programmare insieme un lavoro notevole che ci aspetta per la nostra città e per la nostra provincia C'è un obiettivo in particolare a breve scadenza che vi siete posti? Allora, uno degli obiettivi imminenti è quello della modifica statutaria che prevede la riforma del terzo settore che è prevista per fino a ottobre, quindi immediatamente dovremmo provvedere al cambio statutario del forum del terzo settore di Siracusa e così anche degli enti del terzo settore aderenti, quindi diamo la disponibilità a chi ha queste esigenze di farlo consultando anche il forum del terzo settore gratuitamente e di mettersi in regola insomma con questo cambio statutario che sarà previsto per ottobre 2020 Sicuramente nella nostra programmazione gli obiettivi sono quello di dialogare con le istituzioni e far comprendere che il mondo del terzo settore non è un mondo solo ed esclusivamente di volontariato ma è un mondo che deve camminare pari passo all'istituzione e alla cittadinanza tutta è un mondo che ha sulle spalle un'economia non indifferente è un mondo che non deve essere sicuramente lasciato solo nel proprio cammino deve essere supportato, sostenuto e affiancato